Noi siamo abituati a pensare la preghiera come un momento di pace, di pienezza, di intesa e di intimità con Dio. In realtà oggi la parola di Dio ci presenta la preghiera di Tobi e la preghiera di Sara ed entrambe notiamo come sono gridi di disperazione, di due vite fallite, di due vite piene di prove e sofferenze a tal punto che entrambi nella preghiera chiedono al Signore di morire, hanno il desiderio di morire, di finirla con questa vita. Ma che preghiera è? Che richiesta è? E che succede? Dio ascolta il loro grito, Dio ascolta il grito del sofferente, sembra quasi che nel grito Dio si rende presente, perché Lui è il Dio non dei morti ma dei viventi. Che il Signore ci aiuti tramite questa parola di entrare nel mistero vero della preghiera e della vera relazione con Dio. Buona missio.